Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Da quanto tempo? M'ho botto, no? Che anno era quando ci siamo lasciati, diciamo, nel nostro flirt lavorativo? Forse avevo 22 anni, 2015, sì, sì. Partiamo dall'inizio perché da quando io ti ho conosciuto ad oggi hai fatto un sacco di roba, bravo. Grazie. La liturgia, non so se tu hai mai visto One More Time, se tu la conosci. Sì. Mi racconti la tua storia, io apro delle parentesi quando sento qualcosa e quindi partiamo da quando sei nato. In che anno? Io nasco il 25 maggio del 92 a Bustorsizio, in Italia, a Varese, perché i miei genitori abitavano in Svizzera e decidono di trasferirsi in Italia perché avevano dei parenti qua. E al tempo trovare lavoro in Italia era un po' più facile e anche i documenti, ottenerli, era più facile. Solitamente l'immigrazione si sposta dove si trova qualche parente, no? E quindi i miei genitori avevano delle conoscenze in Svizzera, quindi inizialmente hanno provato lì, poi hanno provato in Italia. E poi le speranze dei miei genitori non ottengono un'ottima risposta e mio padre e la mia famiglia è costretto ad andare a Cerignola, a spostarsi perché trovano un lavoro e mio padre inizia a lavorare nei campi di Pomodoro lì. Dopo quanto tempo della tua nascita? Io nasco nel 92, dopo due anni i miei genitori si spostano e nel 95 nasce mia sorella a Cerignola, quindi noi facciamo un periodo a Cerignola. Senti, hai due figli? Siamo tre, ho due sorelle e ci sono io. Tu sei in mezzo? Io sono in mezzo, sì. Ok, invece la sorella più grande dove è nata? Nasce in Angola, nasce in Angola a Luanta. Tre figli in tre posti diversi? Tre figli in tre posti diversi. Ok. Faccio un periodo della mia vita a Cerignola, ti dirò, sono stati anni molto difficili con la Cerignola, io ero molto piccolo, però eravamo veramente i primi neri e era tosta, ricordo che camminavamo per strada, la gente ci urlava contro. Tipo? Eh, ci offendevano, ci offendevano forte. Negri di merda, la classica, no? Hai questo ricordo pur essendo stato super piccolo quando eri lì? Sì, sì, ho questo ricordo qua. Poi nel 98 ci spostiamo, saliamo verso il nord finché non arriviamo a Ravenna, città dove poi sono cresciuto e ho fatto tutta la mia vita, perché c'era un'amica di mia mamma che poi è come se fosse mia zia, capitava Faenza. Quindi noi ci spostiamo per andare da lei e poi mio padre trova a lavorare a Ravenna e ci spostiamo a Ravenna. Sai, la gente si sposta per il lavoro, no? Per il lavoro e per avere condizioni di vita migliori. È sempre stato il lavoro che ha guidato le scelte. È sempre stato il lavoro. Considera che io nella mia vita avrò cambiato 13 case. E solitamente, sai, le prime volte che ti sposti lo fai perché vai a dormire a casa di un amico, di tuoi genitori, che poi il concetto di amicizia nella cultura dei miei genitori non esiste perché sono tutti parenti. Quindi poi tutti questi amici di mia mamma erano miei zii. Ok. E quindi andavamo a dormire a casa degli zii fino a che poi non abbiamo trovato una casa del comune, una casa popolare. E mia madre ha aperto questo negozio che si chiamava Stella d'Africa. Ok. Che è stato il primo negozio etnico a Ravenna. A Cerignola non lavorava, lavorava solo tuo papà? Mia mamma vadava una signora anziana a Cerignola e papà lavorava nei campi. abitavamo in questa casa piccolissima e dormivo in salotto. Credo che mi sia venuta lì un po' la paura del buio perché io dormivo per terra e la porta dava sulla strada e quindi di notte passavano sempre macchine, persone. Credo che mi sia venuta così la paura del buio. E quindi a Cerignola era così, poi ci trasferiamo a Ravenna. E a Ravenna la vita inizia a diventare un po' normale, nel senso che finalmente i miei genitori lavorano, riusciamo a fare qualche vacanza, riusciamo comunque con la casa popolare, eccetera, eccetera. Perché il lavoro di tua madre andava meglio? Sì, il lavoro di mamma andava bene al tempo, era veramente l'unica. Poi dopo cosa è successo? Che molti altri hanno aperto anche loro i loro negozi, vicino a mamma, e il business è andato un po' peggio. Poi i miei genitori hanno fatto un errore quando eravamo ragazzini perché decisero di comprare questo appartamento che non potevano permettersi. E da lì ritornammo nella difficoltà. Nella difficoltà. Papà, dovete mollare il lavoro per poter finire i lavori all'interno di quell'appartamento. E ci trovammo in situazioni un po' complicate, un po' difficili. Perché per loro comprare quella casa era comunque una conquista, era un modo di dire ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a realizzare qualcosa. Sì, perché comunque, sai, io quando ho fatto i miei primi soldi con quello che ho fatto nella vita, ho comprato un appartamento. Perché comunque per me, per molti ragazzi che hanno genitori immigrati, la casa e i documenti, quelli sono i grandi problemi di chi ha genitori che arrivano da lontano. Perché devi pagare l'affitto, gli affitti sono costosi e ti buttano fuori di casa, i documenti non sono facili, in Italia c'è la Bossi Fini, la gente spesso se lo dimentica. C'è una legge che dice che se tu sei un immigrato e non hai la carta di soggiorno e perdi il lavoro, hai un anno per poter trovare il lavoro. Tu pensa, in un periodo di crisi come questa, quante persone si sono trovati senza documenti, no? E quindi poi i miei genitori fanno questo errore e ci troviamo ancora un po' nell'ublio. Questa casa era in questo posto che si chiama Longana, che era un piccolo comune fuori da Ravenna, quindi io poi perdo anche il contatto col centro, no? Poi saltando un po' le tappe, faccio le scuole, faccio tutto quello che c'è da fare. Come vai a scuola? Male, io ho la terza media. Ho un problema con la concentrazione, quindi faccio molta fatica a concentrarmi, faccio fatica quando qualcuno mi parla per molto tempo. E poi ho sempre pensato che essere ribelli fosse una cosa figa quando ero ragazzino. Quindi cercavo di fare ribelle, di... Chi erano i tuoi modelli che ti hanno ispirato in questo mood? No, non c'erano modelli, era più che altro la noia. Io odio non fare niente. Anche oggi io vado proprio in ansia quando non faccio niente, mangio schifezze quando non faccio niente. Io lavoro sempre. Sai quella cosa dello scrivere tutti i giorni, che mi prende in giro, no? Io veramente scrivo tutti i giorni. Cioè io tutti i giorni faccio qualcosa. Cioè io ricordo anche la mia ex mi diceva, io non ho mai conosciuto una persona che ha così tanti progetti aperti e che fa così tante cose durante un giorno. Perché io credo che sia più che altro paura di tornare povero. Credo che sia questo. E questa è una cosa che ho sempre avuto da ragazzino. Quindi io quando ero ragazzino cosa facevo? Avevo un gruppo rap con i miei amici. Organizzavamo concerti. Facevamo serate che organizzavamo noi. Un gruppo vuol dire che cantavi o... Io sì sì, cantavo, ragazzino cantavo, scrivevo canzoni. Organizzavamo serate, tornei di calcetto. Facciamo di tutto per combattere la noia, no? Poi sai, quando tu sei ragazzino, i modi con cui combatti la noia sono tre... O cerchi di fare qualcosa di artistico, fai qualcosa di sportivo, oppure inizi a fare il criminale, no? Spesso la gente si dimentica che questi ragazzi forse fanno quello che fanno anche perché la noia, cioè, è difficile da combattere. E tu come colmavi il tempo quando gli altri erano a scuola e tu dalla terza media in poi li dovevi aspettare? Io avevo questo mio amico che si chiama Peter. Chi si chiama Peter? Questo mio amico, cui voglio tantissimo bene, e con cui ci svegliavamo la mattina, anche lui non andava a scuola perché il padre faceva il camionista e lasciava sempre casa libera. Allora io andavo a casa sua e la mattina stavamo lì e scrivevamo canzoni. Scrivevamo canzoni e ascoltavamo musica francese, rap francese, tantissimo. Poi di italiano sì, cabdogo, in occhi. Quindi facevamo la mattina di scoperta. Lui aveva internet, quindi andavamo su internet a cercare le cose, no? E poi scrivevamo, scrivevamo tantissimo. Facevamo sempre questa cosa del rap. Il rap mi ha salvato la vita, perché veramente se non ci fosse stato il rap non so cosa avrei fatto. Poi cosa facevamo noi? Siccome Ravenna era una piccola città, prendevamo il treno senza biglietto e andavamo a vedere i concerti. Allora una volta che abbiamo visto Uwe Pechegno erano contentissimi. Senza biglietto sia per il treno che per il concerto? No, avevamo il biglietto del concerto, ma non avevamo il biglietto del treno. Ok. E con che soldi ti compravi il biglietto del concerto? Sai, la fortuna che avevamo noi, come ti dicevo prima, organizzavamo serata a Ravenna. Ok, quindi guadagnavi un po' da lì. La speranza sua è sempre stata quella di avere un figlio laureato, eccetera, eccetera. Ricordo quando mi bocciarono la prima volta, mi bocciarono in prima media, era delusissimo. Ce l'ho ancora ricordo nitido. E come te l'ha detto? Non me l'ha detto, mi ha detto, hai visto la topagella? Basta. Così, nient'altro. Non ti ha mai picchiato tuo papà? No, sì, sì, sì. E in quel caso? No, no, in quel caso no. Forse la cosa che li teneva un po' tranquilli è che io comunque alla fine ero un bravo ragazzo, nel senso che non era mai venuta la polizia in casa a dire, cioè, non mi ero mai trovato in situazioni di casini, quindi questa cosa magari li confortava abbastanza, però non l'abbiamo mai affrontata, ti dico la verità. Nel non affrontarlo però ti avranno chiesto qual è il tuo piano? Silenzio assoluto da parte di mio padre. Sai, i miei genitori hanno avuto tanti problemi, problemi grandissimi, i documenti, l'appartamento, l'affitto, poi c'è l'affitto nel negozio, i parenti in Africa, quindi tanti problemi. E questo magari tende poi a qualche genitore ad essere un pochino più distratto, però io ho avuto la fortuna di avere una madre molto attenta, che mi ha sembrato tantissimi consigli. Ho una madre che oggi mi dice sempre tanti te l'avevo detto, quindi mia madre mi ha segnato questa cosa che io mi porto sempre con me. Lei mi diceva sempre non ci puoi fare niente, che è una cosa che io trovo verissima, cioè noi quando avevamo i debiti, quando ci volevamo sbattere fuori di casa, quando eravamo i sbatti, lei mi diceva io non posso andare in depressione, dannarmi, il tempo è il migliore giudice, io adesso non ci posso fare niente, però il tempo mi darà le risposte. E questa cosa oggi mi serve tantissimo. Sai, quando magari ti lasci con una persona che ami, quando ti succede qualcosa di sbagliato, no? Non puoi cambiarlo quel fatto, puoi cambiare tu e ripartire in modo diverso. Puoi solo visualizzarti nel futuro, no? Quindi no, sono stati molto attenti, ti dirò la verità. Rapporto con le tue sorelle? Buonissimo. Loro sono andati avanti a studiare? Sì, mia sorella tuttora studia, la più piccola. La più piccola. La più grande, ora in un negozio di vestiti, sono le mie migliori amiche, cioè abbiamo un buon rapporto. Tra di voi, fratelli e sorelle, parlavate dei problemi che vivevate dei vostri genitori o facevate tutti finta di niente? No, l'abbiamo vissuti in primis, mia sorella più grande, Stefania. È un po' come se non avesse avuto una adolescenza sua, perché lei ha subito lavorato, faceva sempre le treccine, cioè quindi lei ha pagato un prezzo, un prezzo molto alto, no? Quello di non aver avuto forse un'adolescenza d'adolescente. La cosa che ci ha salvato è stato il fatto che parlandoci ci siamo sempre detti di restare uniti. Poi alla fine è quello che conta, no? Volersi bene, stare uniti e sapere che le cose comunque passeranno. Quindi no, ne parlavamo e poi alla fine le cose sono andate bene. Nella mia vita ci sono stati un paio di turning point. Primo turning point è quando mia madre se ne va. Mia madre va a vivere in Angola perché stanca di stare in Italia. E lo capisco. Stanca di stare in Italia, lei ci lascia con il nostro padre. Cioè nel senso che lei non ha mai trovato dei riferimenti. Stando in Italia, a prescindere dalla città, si sentiva sempre molto lontana dalle sue radici. Ma tu pensa di vivere in un posto dove non vieni mai considerato come uno del posto. Quindi trattato sempre come straniero nonostante tu sia qui da vent'anni. Le leggi che comunque, sai, quando in Italia si parla di razzismo si sbaglia. Il razzismo che bisogna combattere in Italia non è il tipo che mi chiama negro per strada. Quella è una questione di educazione personale. Io non voglio combattere qualcosa, a me non mi interessa. Quella è una questione di educazione personale. Cioè il ragazzo che mi chiama negro di merda chiama la ragazza magari robusta, la chiama cicciona. Il ragazzo con gli occhiali da vista lo prende in giro. Il ragazzo disabile, no? Quindi non è quello che va combattuto. Quello che va combattuto è il fatto che viviamo in un paese dove ci sono ragazzi che nascono qua e non hanno la cittadinanza italiana. Dove ci sono persone che lavorano in Italia da trent'anni e perdono il lavoro e diventano clandestine. E hanno mutuo aperto e pagano la scuola per i bambini. E' questo quello che bisogna combattere. L'altro è una grandissima forma di distrazione. I veri problemi sono questi. E quindi tu sai, vivi qua per vent'anni, rischi di perdere i documenti ogni anno. Ti dici, ma sai che c'è? Io prendo e torno a casa. E quindi mia madre ha deciso di fare questa cosa. Ma l'amore era finito tra di loro per fare una scelta così drastica? Sì. Poi non ti so dire il tempismo e quando è successo. Gli l'hai mai chiesto? No. Non affrontava te mai discorsi così intimi e profondi? No. Ma neanche oggi non penso di avere la forza per farlo. Cioè non penso di essere abbastanza forte per sentire determinate cose. Quando ve lo dice, c'è tuo padre di fianco, ve lo dice a voi figli da sola? Non ce lo dice. Ah no. Nel senso che lo scopriamo poi. Cioè nel senso ti ha detto che tornava in Angola? Sì, che sarebbe stata lì. Che sarebbe andata lì per un po'. Ok. E però poi non è più tornata. E lì iniziano i problemi veri perché mia madre è sempre stata molto brava a gestire la nostra casa. Quanti anni avevi? Quando è successo? Eh, 17. Stefania quanti anni ha? Stefania ha quattro anni in più di me. Quindi 21 lei e la più piccola si chiama? Meraviglia. Tre anni meno di me. Ma che nome pazzesco. Sì. E non vi ha proposto di andare con lei? No, perché avremmo perso i documenti. Cioè, no. E vostro padre non fa un discorso quando a un certo punto capite che non tornerà più? Il padre cade in una forte depressione e quelli sono anni molto difficili, molto difficili. Non c'hai l'acqua in casa, non c'hai il gas, perché ti staccano il gas e la luce perché non paghi le bollette. Mi sorella inizia a cercare lavoro, io ero un po' testa di cazzo, quindi non facevo niente da mattina a sera e poi nella mia vita succede che conosco una ragazza che mi dice questa cosa. A che età? Eh, tre anni dopo, 19-20 anni, mi dice, oh, tu a volte scrivi delle cose molto belle, dovresti provare a mettere giù delle cose, perché io facevo questa cosa con lei molto carina di scriverle di notte dei messaggi. Tu scrivi delle cose molto belle, dovresti pensare di scrivere, allora lei fa questa cosa che inizia a insegnarmi a scrivere. Io sbagliavo tutti i tempi verbali, sbagliavo tutto, sbaglio ancora oggi. Cioè, sbaglio a mettere le virgole, non ho studiato. Quindi lei mi presta Castelli di rabbia di Baricco, poi mi presta Oceano Mare, poi mi dà L'onda perfetta di Sergio Bambaren, tutti i libri che inizio a leggere e finire per conquistarla, quindi non è che… Non eri abituato a leggere? No. Ricordo che alle medie mi regalarono Il barone rampante d'Italo Calvino, lessi le prime pagine e non capì niente, chiusi. E lì cosa ti ha dato la forza di leggere il primo? Perché volevo conquistare lei, fare colpo su di lei. Allora inizio a leggere tutti questi libri, li finisco. me li mangio tutti, tenendo conto che mi piace, mi piace come scrive Baricco, mi piace il fatto che esista questa cosa, no? E niente, allora dico, boh, magari posso davvero iniziare a scrivere. Poi succede una cosa, cioè non mi piace tanto parlarne perché poi sembra che cavalco su questa cosa qua. Succede che sua madre non vuole che noi due stiamo insieme perché non le piaccio. Perché? Poi dice che sono un poco di buono, che sono un drogato, eccetera, eccetera. Tu pensi, io non ho mai fumato una sigaretta, ho mai bevuto alcol, pregiudizi. Però uno non butta una sentenza così sul tavolo, qualcosa ci sarà stato. La paura che la sua figlia stesse con un ragazzo che non lavorava, che non aveva un futuro. Quindi niente, lei si mette tra di noi e un giorno fa questa cosa che mi chiama al telefono sua madre. Mi chiama al telefono, stiamo parlando, mi provoche e dice questa cosa. Dice che poi lei mi ha detto che tu fai questa cosa che scrivi, eccetera, eccetera. Ma c'era la figlia vicino o l'ha fatto da sola? Non lo so. Perché non hai mai più visto la figlia da quel momento. No, dopo decidiamo di lasciarci e lei ha telefonato, mi dice questa cosa, mi dice dici tanto che vuoi fare questa cosa alla scrittura, non ce la farai mai, in poche parole mi dice. Mi metto giù il telefono, ero in lacrima, ricordo, chiamo il mio migliore amico e gli dico che devo fare, lui mi fa il mio migliore amico con cui ho tutto il lavoro, scrivi un libro, parla di questa cosa. E da lì inizio a scrivere, inizio a scrivere questo libro. La prima cosa che faccio è, io non so come si fa a scrivere un libro, allora scrivo su Google, inizio a scrivere su Google, come si fa a scrivere un libro, devi scaricarti le applicazioni, eccetera, eccetera. Come faccio a pubblicarmi un libro? Devi sentire le case editrici, però ci sono pareri discordanti, molti che dicono ho trovato case editrici che mi hanno fatto pagare, eccetera, eccetera. E allora leggo che ci sono degli autori che hanno fatto i milioni autopubblicandosi e parallelamente ti dicono, però se vuoi fartelo da solo devi anche fare del marketing. E allora inizio a seguire degli autori che si autopubblicano e vedo che loro scrivono su Facebook. Io su Facebook al tempo avevo tanti amici, orameno ero molto conosciuto. Allora inizio a scrivere le mie cose su Facebook. Perché eri molto conosciuto? Perché organizzavi gli eventi? Allora iniziavo serate, facevo musica, le mie canzoni giravano, quindi mi era rimasto un po' di quella fama dell'adolescenza. Allora inizio a scrivere su Facebook delle cose. E delle pagine, al tempo, riprendono le cose che scrivo. Iniziano a seguirmi persone su Facebook. Io parlavo della mia vita, scrivevo della mia condizione come ragazzo nero in Italia, quindi dicevo quello che sentivo e come vivevo e scrivevo della mia relazione, dei sentimenti che provavo. Allora iniziano a scrivere ragazze dicendomi che bello quello che scrivi, ragazzi neri, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. E mi esplode questa cosa. Allora inizio a dire, ma sai che c'è? Siccome le persone non leggono, leggo io. Allora inizio a fare dei video su Facebook dove leggo le cose che scrivo. Io ti ho conosciuto così e l'ho trovato geniale. E i video iniziano a fare migliaia di like. E allora, dico, è giunto il momento di pubblicare questo libro, mi autopubblico, mi iscrivo in questo sito che si chiama youcanprint.it, che fa questa cosa molto carina dove tu puoi pubblicare il tuo libro dove vuoi e loro fanno anche una piccola distribuzione nel caso delle persone preordinassero il tuo libro. Quindi c'è una persona che andava in libreria e diceva io vorrei questo libro. Loro sentivano youcanprint e poi youcanprint gli faceva. Stampavi sul venduto tendenzialmente, non ti prendevi mai il rischio di avere uno stock. Sì. Quindi non investivi niente in quel caso. Quindi non investo niente. Quando investo il libro va molto bene, fa migliaia di download, non so quanti, ma migliaia di download. Perché era anche ebook? Sì, perché era anche ebook gratuito. Ebook lo tengo gratuito, cartaceo lo metto a pagamento. E niente, allora vedo che c'è tanta richiesta, decido di organizzarmi un tour nelle librerie. E ci sono i video di queste cose su YouTube. Nel senso chiamavi tu le librerie? Sì, io inizio a cercare delle feltrinelli e inizio a chiamarli tutti. Mi dicono che non possono farlo, allora vado sulle librerie indipendenti e inizio a chiudere il primo tour. Ci sono dei video, si chiama La Rivoluzione nella Mente, dei video che facevo nel 2014 di me che organizzo questo tour. Ci sono ancora su YouTube. Allora inizio a chiamare, inizio a organizzare. Il mio primo tour era Milano, in una piccola libreria, non mi ricordo di qualità. E come le trovavi? Su Google le indipendenze? Sì, e chiamavo, dicevo io sono un autore, vorrei lì con i miei libri e proverei a venderli. Dicevamo va bene, Milano, Ravenna al caffè letterario, Roma, Napoli, Palermo. Questo era il tour, è Torino, ho fatto questo piccolo tour. E ti pagavi le spese tu per spostarti? Tutto io da solo. Chiedo a mio padre un prestito e al mio migliore amico. Chiedo un prestito per poter comprarmi le copie. Un prestito di quanti soldi? Al mio amico chiesto 400 euro, mio padre è 200. E lui mi li dà senza farsi problemi, anche mio padre mi li dà. Non te l'aspettavi dalla faccia che hai fatto? Non me l'aspettavo perché al tempo tutti mi prendevano in giro. Tutte le persone che avevo vicino mi dicevano scrittore, ma che stai dicendo? Sai in Italia c'è questa cosa del ma dai, ma dove vuoi andare? Ma stai lì. In Italia tutti fanno questa cosa. E mi è successo sempre nella vita. Ma dai, ma che stai dicendo? Ma stai lì. Allora tutti mi prendevano un po' in giro, diciamo ma che scrittore, eccetera, eccetera. E allora decido di prendere, fare questo tour in giro per l'Italia. Oh, in libreria viene la gente, c'erano 200-300 persone. Usavi sempre Facebook per fare quel tour action e tutto? Conosco questo ragazzo, si chiama Fred, che è un regista italiano, che ha un po' di contatti, si innamora del mio progetto e dice io voglio darti una mano. E mi mette in contatto con Simonetta, che è la persona che si occupa del Festival dei Libri di Mantova. Io da indipendente vado a questo festival a fare un incontro sulla poesia con altri due autori. Presento il mio libro, vendo tante copie, e si presenta il capo della narrativa del tempo di Mondadori, Antonio, il cognome mi sfugge e mi dispiace. Persona a cui voglio tanto bene, perché al tempo mi fece lui il contratto. Si presenta e mi dice che sono di Mondadori e vorrei farti un contratto e uscire col tuo romanzo. E io non avevo capito al tempo, perché non avevo ben capito. Cosa non avevi capito? Che era Mondadori. Cioè che no, il libro sarebbe uscito in tutte le librerie, era Mondadori. E allora cosa succede? Vado a casa, parlo con le mie sorelle, entusiasmo, mi chiamano a Mondadori Segrate, vado, ricordo che sono andato lì con un vestito africano. Non so per quale motivo. Non dimenticero mai questa cosa, andavo con un vestito africano tutto lungo, azzurro. Andai a Milano e conobbi al tempo Marta Treves, che poi attualmente è la mia editrice. Persona che mi ha cambiato la vita, che mi ha insegnato a scrivere. e mi dice, ci piace tantissimo quello che scrivi, vogliamo pubblicare il tuo romanzo. Quello stesso romanzo o uno nuovo? Quello stesso romanzo, del 2014. Quindi, toglielo dal web, rimetti a posto delle cose, decidi che cosa vuoi, come in copertina, eccetera, eccetera, sappi che usciamo nelle librerie. Il nome del romanzo? Fuori piove, dentro pure posso apprenderti. Il libro esce il 3 febbraio del 2014, best seller, 100.000 copie in un anno. Sai, sempre questa mia cosa della paura di stare fermo. Allora cosa dico? Sai che c'è? Io voglio raccontare la mia storia nelle scuole. Allora inizio a organizzare un tour nelle scuole. Lo fa Mondadori questo? Faccio io. Cioè, nel senso, l'organizzazione? Io, tutto io. La cosa che dico a tutti gli autori è scordatevi che qualcuno faccia qualcosa per voi. Non esiste questa cosa. Diciamo che le cose che possono fare gli altri per te è aiutarti a dare una lettura, una gestione in un mondo che tu non conosci, ma farle succedere, le fai succedere soltanto tu. Sono d'accordo. Organizzo un tour nelle scuole, vado in tutte le scuole d'Italia, ma qualsiasi, eh. Vado a Schio, a Vicenza, vado a Paola, in Calabria. La scuola mi pagava le spese. Vendevi copie quando eri nel… No. Quindi era divulgazione. Divulgazione. Dicevo, ragazzi, il 3 febbraio uscirà il mio romanzo. Quante scuole hai fatto? 170 le ho fatte tutte. In quanto tempo? Da settembre fino all'anno dopo. Quindi ho fatto tutto l'anno, facevo anche due scuole, a volte facevo mattina e pomeriggio. Raccontami il più bel appuntamento in tutto questo tour gigantesco che hai fatto, quella cosa che ti ha proprio aperto il cuore, ti ha fatto sentire che stava veramente per succedere qualcosa di bello nella tua vita. A Ravenna c'è una libreria, mi fa emozionare pensandoci. A Ravenna c'è una libreria, che è la Feltrinelli di Ravenna, che quando tu entri per il centro ci devi passare per forza davanti. E su Instagram c'è ancora lo screenshot di quel momento. Prima ancora di pubblicarlo da autopubblicato ero fuori dalla libreria di Feltrinelli e decidi di fare una foto. Ero uscito il libro di Camilleri. E pensai, cavolo, un giorno io vorrei essere qua. E allora esce il mio romanzo, Ravenna, e Mondadori nella mia città fa un cartonato gigante nella mia faccia e mi manda una foto mia sorella. Una foto con una vetrina allestita con il tuo romanzo. Con tutti i miei libri, sì. Wow. Allora lì ho pensato, cazzo, forse valgo qualcosa. È la prima volta in cui l'hai pensato seriamente. Lì ho pensato, posso cambiare la mia vita. Lo sorella ti manda la foto, tu vai, te la godi, guardi e senti che probabilmente sta per succedere qualcosa di meraviglioso. Però non riesco a godermelo perché sono povero. Ok. Perché Mondadori mi dà 5.000 euro d'anticipo e come tu ben sai i soldi te li danno l'anno dopo. Io con quei 5.000 euro cosa faccio? Noi avevamo dei debiti in casa, pago i debiti. Con i pochi soldi che mi rimangono, il contratto che ho a disposizione, riusciamo a prenderci un altro appartamento in Centrale Ravenna. Pago la caparra di due mesi e i soldi praticamente mi finiscono. Rimango senza soldi e inizio ad aspettare che mi arrivi, io non lo sapevo, cioè inizio ad aspettare che mi arrivi nei soldi dei libri. Tutti mi dicono, stai vendendo un botto, la gente mi ferma per strada. Quindi faccio questo tour dove non ho soldi. Io ero in giro per l'Italia e speravo che ogni volta il libraio mi pagasse pranzo e cena e c'erano volte in cui il libraio lo beccavo tipo alle 16, quindi io a morire fame. C'erano queste cose assurde. Non ti hanno mai proposto di darti un anticipo loro in attesa di... Tanto sapevano quanto stavi vendendo. Cosa faccio? Scrivo il libro dopo. Per prendere un altro anticipo? Il secondo libro io lo scrivo per soldi. Prima o poi ci abbracceremo, lo scrivo perché avevo fame, perché avevo bisogno di fare dei soldi. E quanto ti darò ad anticipo sul secondo? Prima o poi ci abbracceremo, prendo 40.000 euro. Considera quel libro, l'ho scritto in treno. Cioè durante tutti i viaggi? Finito il tour, ho questo libro, lo porto, mi fanno un contratto e faccio prima o poi ci abbracceremo per soldi. Esci questo libro, va bene, però capisco che non voglio che la scrittura sia un mio lavoro. 40k, intanto una grande somma, tutte insieme per la prima volta? 40k, tutte insieme per la prima volta. E quando li hai tutti insieme, cosa fai? Il primo ricordo che ho è che su Amazon comprai delle caramelle, comprai una scatola di caramelle. Io sono fan di caramelle gommose, sono fan delle Aribu. Perché prima non potevi comprarti una confezione così grande? Sì, comprai su Amazon questa confezione e poi mi trasferisco a Milano. Vengo a vivere a Milano insieme a questo ragazzo che si chiama Alessandro Mordaca. Mordaca lo conosco perché me lo presenta un mio grandissimo amico e mi dice se vuoi fare dei video sui tuoi libri perché tu li fai, chiama questo ragazzo di Bergamo, di Brescia. E lui nello stesso periodo faccia un'amicizia e mi dice io voglio andare a vivere a Milano, io faccio anch'io. Andiamo a vivere a Lambrate insieme. E lì io penso, non voglio che i libri siano la mia vita. Perché pensi questo se fino al giorno prima invece... Non volevo scrivere per soldi. Io non volevo scrivere libri perché avevo bisogno di soldi. Ma il secondo libro vende meno del primo. Il secondo libro vende meno del primo, io prendo l'anticipo... Ma ti spaventa quella cosa? Tantissimo. Tantissimo perché io facevo questa cosa bruttissima al tempo. Io guardavo sempre gli altri. Era il periodo in cui tu facevi tutti i libri con gli youtuber e vendevano un botto. E io pensavo, ma perché io no? Allora vedevo le foto su Facebook di questi store con mille persone. Io ne facevo 150, 200. O andavo in sbatti. Anziché goderti con le 150, 200, guardavi che te ne mancavano 8,50 rispetto agli altri. Dicevo, ma perché io no? Cazzo, cos'è che ho fatto che non... No? E allora paura, tanta paura. E quindi decidi che non sarà più la tua vita. Però nel frattempo... Continua a scrivere, no? Assolutamente. La scrittura non la mola. Quindi vai a vivere con Murdaka, fai video per te o alla fine no? Sì, Murdaka fai video per me, ci sono ancora sul web. Ok. E lì ho sempre avuto questa cosa della musica e decido di iniziare a lavorare nella musica. E un mio amico inizia a dirmi, c'è questo artista, Gali, che spacca tantissimo. Per me tu dovresti parlarci. E io mi avvicino a lui e penso, se io sono riuscito a vendere così tanti libri, posso forse vendere anche nella musica? Quando dici posso vendere nella musica vuol dire tu come cantante o tu come scrittura? No, io come mente pensante. Io come mente pensante posso riuscire a far accadere delle cose nella musica. E quindi inizio a pensare, si potrebbe fare questa cosa. Mi piaceva tantissimo l'idea. Io, allora, la mia missione è quella di far sì che l'Italia diventi un paese dove i miei nipoti possono crescere sentendosi rappresentati. Io questa cosa non ce l'avevo. Quando mio nipote mi dice, zio, oggi a scuola abbiamo parlato di te, cavolo, quello per me è tantissimo. E poi devi considerare che noi siamo arrivati da un periodo storico dove c'erano politici che facevano leva sul nero, sul migrante. Quindi a scuola si parlava di questo. E i miei nipoti potevano dire, non è vero che tutti i neri sono dei criminali, mio zio non è così e voi lo conoscete. Questo è tantissimo. E dare uno strumento ad un ragazzo solo, giudicato, per dire, non è vero, io posso essere qualcosa di diverso, ma non è vero che sono tutti così. Allora la mia missione è sempre stata quella di far sì che nel mio paese ci sia la possibilità e che un ragazzo possa avere la possibilità, un ragazzo nero, come l'ero io quando ero piccolino, la possibilità di dire, non è vero, di potersi difendere. Perché spesso noi ci dimentichiamo che ci sono dei ragazzi nelle province che sono abbandonati a loro stessi. Io quando il politico X o la persona X scrive il post, danneggia quel ragazzo lì, che colpa ne ha lui? Parliamo di Gali. A che livello di fama, conoscenza era? A Milano era molto conosciuto, in Italia molto poco. Non era ancora uscito un suo brano che si chiamava Non lo so, insieme a Izzy. Eravamo poco conosciuti. Io dico eravamo perché eravamo un collettivo. Un collettivo che si chiamava Sto. Ci vediamo a casa, parliamo. E a quel tempo gli dissi, per me tu sei un grandissimo talento. E poi per me ci siamo capiti anche perché eravamo tutti e due second gen. E tutti e due ci spingeva questa cosa di fare qualcosa di diverso, che potesse essere diversa. Allora gli dissi, proviamo a cambiare l'Italia insieme. Facciamolo. Io non ho mai conosciuto una persona con un talento come il suo. Cioè, credo che il suo più grande talento sia quello di captare. Lui capta delle cose e poi le fa diventare musica. Tu gli dici una parola e lui ci fa una canzone. E poi è la visione. Ha la visione. È troppo avanti. Adesso è troppo avanti. Nel senso che lui è sempre troppo avanti. E questo non so se è un pregio. Iniziamo a creare un'etichetta dove c'eravamo io, lui, questo ragazzo che si chiamava Mad, che era il nostro socio. All'interno del gruppo creativo c'era anche questo ragazzo che si chiama Marvely, che gestisce la miglior sedata di Milano, il Rocket. Tito, che è il nostro grafico storico. Didi, Ruth, eravamo tutti black della seconda generazione. Questa era la cosa particolare. Amici tuoi o suoi? Erano persone che ho conosciuto tramite amici di Gali. Quindi poi siamo diventati un collettivo e da lì abbiamo iniziato a lavorare. Al tempo facciamo questa cosa di pubblicare un singolo al mese. E ogni singolo che usciva era sempre migliore dell'altro. Quindi facciamo sempre più numeri dell'altro. E tutto va troppo bene. Nel senso che diventa troppo grande la cosa, no? Dopo quanto tempo ti rendi conto che tutto diventa troppo grande? Iniziamo a lavorare a settembre, a febbraio già era tanto grande. Quindi un semestre già aveva una dimensione diversa. Io ho questa intuizione e gli dico, in Francia, io ho sempre visto la Francia, tutti gli artisti avevano il merchandising, tutti gli artisti lavoravano in quella maniera lì. Io penso, facciamo un merch. E gli dico anche parallelamente, io ho questa idea di fare un magazine. Perché manca in Italia, non c'è questa cosa che in Italia c'è un punto di riferimento dove tutti gli artisti possono comunicare quello che vogliono, eccetera, eccetera. Soprattutto su Instagram. Quindi, niente, io gli dico questa cosa del merchandising e iniziamo a elaborare questa cosa. Organizziamo questo evento ad aprile a Milano, dove vengono migliaia di ragazzi, chiamiamo tutta la scena, facciamo questa cosa. E io al tempo ero innamorato di quest'altro ragazzo, che si chiama Capo Plaza, che cantava a Salerno, lui stava a Salerno. Io pensavo che aveva un talento incredibile. Allora decido di chiamarlo a Milano, gli dico, guarda, a me piacerebbe tantissimo lavorare con te, perché io penso che tu sia veramente un grandissimo talento e per me dovresti far parte del nostro collettivo. E lui decide di accettare. Era all'inizio anche lui? Sì, lui era all'inizio e iniziamo a lavorare anche con lui. Quindi parallelamente abbiamo Gali, con tutto il suo esploat, abbiamo Plaza, il magazine, il merchandising e le cose vanno benissimo, vanno meglio di quello che ci aspettavamo. Avevamo un ufficio nostro, dove vendevamo il merchandising, con dei dipendenti che pagavamo, stipendiavamo. Quindi facevi ricerca di prodotto? Facciamo ricerca di prodotto, facciamo un drop al mese. Un drop al mese dove Gali era, diciamo, un po' il testimone di questo brand, ma anche Capo Plaza a quel punto lo diventava dopo. Ogni tanto partecipava anche lui. Io volevo che Sto diventasse il brand della scena italiana, come Uncut in Francia. Io volevo che tutti nel rap italiano indossassero Sto. Questa era la mia visione iniziale, no? E quindi niente, poi facciamo questi due anni fantastici. Però sai, una cosa che ho imparato nella vita, una frase di Jay-Z, credo. Nella vita non ottieni quello che meriti, nella vita ottieni quello che tratti. Io non sono mai stato bravo a trattare, non sono mai stato molto bravo a prendermi quello che mi spetta. Quindi abbiamo dei momenti di inflessione dove le cose non funzionano molto. Io, la prima cosa per me è la pace. I soldi vengono dopo. È in tutti i progetti. Quando io mi rendo conto che non c'è pace, io mi stacco. E quindi non c'era più una pace tra di noi. Ero molto stanco. Ero stanco io e altri due miei amici con cui lavoriamo ancora oggi. Eravamo stanco un po' della situazione, nel senso che il nostro socio, che era comunque l'amministratore della società, non era pronto per una cosa così grande. Quindi ci eravamo trovati che le cose non erano state messe sul tavolo molto bene. Quindi c'era tanto malcontento da parte di tutti, no? Perché c'erano tanti volumi di tempo, effort, stress, di soldi e quindi ci voleva ordine. Ci voleva un ordine che la persona che l'abbia dovuto metterlo non l'ha... Perché non aveva mai vissuto uno scenario così importante. Così, così importante. Ma questo vale per tutti voi? Sì, sì, questo vale per tutti noi. Quindi facciamo una riunione un giorno e apertamente senza litigare. Senza discutere. Ma no, no, anzi, proprio da... Da persone mature. Molto maturi. Ho detto, io non... Mi dispiace, ma io mi tiro fuori. Quindi faccio un passo indietro e lascio. Periodo difficile, perché devo rimettermi in piedi. Perché comunque lascio un progetto come quello e devo ristrutturarmi. Quindi anche Capoplazza rimane nel collettivo? Non ti può seguire? Non mi può seguire, rimane nel collettivo. E al tempo conosco questi ragazzi fantastici, che si chiamano Blue Joint, che facevano pubblicità. Sono gli stessi i raggiunti. Bravissimo. Conosco loro e iniziamo a parlare e gli dico, guarda che noi abbiamo una fanbase incredibile, parlando del magazine. Perché il magazine riesco a tenermelo. Delle tre membrane, Gali continua con la sua organizzazione artistica e quindi il mondo label. Il magazine lo tiene lui. Merch lo tiene lui e tu fai l'editoriale. E dico, noi abbiamo una fanbase incredibile. A questa fanbase potremmo dare qualcosa se andassimo da un brand. E parlando, 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 ci viene in mente di fare Basement Caffè. Che è questo format dove cerchiamo di portare gli artisti ad un altro livello. Al tempo, la cosa che mi faceva molto arrabbiare era il fatto che quando si parlava di rapper, si parlava di rapper come fossero persone stupide, non letterate, che non guardavano il cinema. Io dicevo, no, guardate che marra, gue, eccetera, eccetera. E' gente che... Che è spessa. Che è spessa. E allora volevo dimostrarlo. Allora dico, leghiamo il cinema al rap, proviamoci, e facciamo Basement Caffè. Quindi loro, Blue Joint, Tre Joint, tendenzialmente vanno dal brand o dall'agenzia. E noi pensiamo insieme a loro, all'idea. Al contenuto. Al contenuto. Costruiamo tutto insieme, bellissimo. Due generazioni a confronto. Facciamo questa cosa, la mettiamo sul web, ci va benissimo. Parlenamente io apro la mia nuova struttura con i miei soci e diamo vita alla nostra nuova realtà. Con cui riusciamo a riscoprire degli altri talenti. Io poi pubblico anche il mio terzo e quarto libro. Il terzo libro vende molto bene. Meglio del secondo? Meglio del primo. Sì, sì, vende molto bene perché abbia questa intuizione che mise la prima parte del libro gratuita e la seconda parte uscì cinque mesi dopo in libreria. E tutti quelli che avevano letto il gratuito si comprarono il cartaccio. Quindi si è sempre concentrato tanto sulle strategie di marketing? Guarda, io sono ossessionato dal marketing perché la cosa che mi dà più fastidio di questo paese è che le persone pensino che la speranza sia una strategia. La speranza non è una strategia. Le persone in Italia fanno questa cosa. Lo facciamo uscire e poi vediamo come va. Non vuol dire niente. Non vuol dire niente. In qualsiasi settore. Lo facciamo uscire e poi vediamo come va. Facciamo questa cosa e poi vediamo come va. No, io perdo ore. Perdo giorni. Cioè, una cosa che ho imparato da Warren Buffett è che tu non devi pensare alla prossima mossa tu devi pensare alle prossime tre. Io mi confronto sempre con persone che pensano solo alla prossima mossa. Non puoi spaccare così per me. Spacchi se pensi alle prossime tre e ci sta che nel percorso ci saranno dei momenti di down, delle inflessioni. Ma se tu stai pensando alle prossime tre sei a posto. Non lo so, io ho avuto tanti momenti di down. Tanti momenti in cui uno, quel tipo è finito oppure no. Mi dici il tuo momento di down più grande che hai vissuto? Boh, quando ho realizzato che mia madre se n'era andata. E quando hai realizzato che tua mamma se n'era andata come reagisci? Subisci? Subisco. Subisco. Non è stato facile. E poi, boh, momenti difficili della mia vita. Quest'anno è stato difficile. Perché ho avuto una relazione d'amore non facile. Che è finita? Sì. È stata molto dura per me. Ed è stata la prima volta nella mia vita che mi sono messo tanto in discussione anche sul piano lavorativo. Tanto. Rispetto al tempo che ti assorbiva il lavoro? Nell'amore? No, rispetto al fatto che pensavo di non essere più in grado di fare niente. Quindi ho avuto una relazione difficile e nella mia testa iniziavo a pensare a questa cosa. Quando parli d'amore, perché mi hai parlato di due momenti d'amore. Del momento che ti ha fatto scrivere il tuo primo romanzo. Cioè, mi hai raccontato quella storia e da lì ti è venuto l'impulso e quest'ultima. E ce ne saranno state altre in mezzo. Oggi sei single? Sì. Hai mai analizzato tutti i tuoi rapporti per cercare di capire cosa potevi migliorare. Ti metti in discussione profondamente quando succede qualcosa? Questa relazione è durata più del dovuto perché mi sono messo tanto in discussione. Ho pensato se le altre cose non funzionavano questa volta se non funziona è colpa mia. Perché se le altre volte non ha funzionato comunque la responsabilità è tua. Però le cose vanno prese separatamente perché le persone sono diverse. E non è che sei svegliato in passato e ora la relazione non va vuol dire che tu sei colpevole. Allora io a volte mi sentivo in colpa per cose che sai mi sono messo molto in discussione soprattutto nell'ultima relazione. Mi sono fermato un attimo e mi sono detto cos'è che non ha funzionato in passato? Non comunicavi abbastanza? Cerca di comunicare di più. Scappavi via? Cerca di scappare di meno. Ho cercato di farlo però forse l'ho fatto con la persona sbagliata. Però l'insegnamento che sto prendendo adesso è che lo voglio rifare ancora. Cioè io quando mi fidanzerò di nuovo lo farò ancora. Cercherò di comunicare di più di scappare di meno di essere più presente di pensare che a volte bisogna staccare il lavoro concentrarsi sulla persona con la quale stai. Ho cercato di farlo nell'ultima relazione. Non è bastato ci sono stati momenti molto difficili. Sei triste o arrabbiato nei confronti suoi? Perché comunque non sei pulito. Tutte e due. Ma penso anche lei. Mi dispiace parlare di persone che non ci sono perché loro hanno sicuramente la loro versione dei fatti e sai spesso quando parliamo di noi cerchiamo sempre di un po' come quando ti fai una foto e la pubblichi su IG metti sempre quella dove sei venuto meglio. Facciamo anche questa cosa quando parliamo di noi stessi e non penso che sia giusto. Io penso di essere arrabbiato con me stesso tantissimo perché ho permesso delle cose che non avrei mai permesso di fare a nessun altro e perché anche nei suoi confronti ho agito sbagliando determinate cose e che non avrei dovuto fare. Quindi sono molto arrabbiato con me stesso. Questo bilancio che tu fai te lo dici solo adesso o durante quando ci sono delle cose che non vanno le affronti? Perché tu da quando sei piccolo mi hai raccontato tu a me in questa conversazione che non affronti subisci. Durante la relazione ti confronti con quella persona senza dire tu hai fatto ma dicendo io mi sento in quel modo è la stessa cosa ma detta in quella maniera la persona lo percepisce in modo diverso. Vuol dire che se tu sei triste ad esempio perché passate poco tempo insieme e dici a quella persona non ci sei mai si chiude a riccio e andate a discutere. Se invece tu dici io mi sento solo cioè proprio vorrei stare di più con te quindi senza farti pesare il fatto che tu non ci sia quella persona si apre nel modo più ampio possibile. Volevo capire come lo facevi. Ti dico io una cosa che ho imparato è che nella vita non bisogna cercare la persona giusta bisogna essere la persona giusta e io nell'ultima relazione penso di aver provato ad essere la persona giusta nei miei limiti. Ho cercato molte volte di comunicare come tu hai detto e a volte ha funzionato perché siamo stati insieme comunque un anno e passa quindi vuol dire che questo tipo di comunicazione ha portato dei risultati altre volte non ha funzionato però sì nell'ultima relazione ho cercato di farlo prima no prima ero tu non ci sei mai prima ero questa cosa qua ho cercato di fare diversamente stavolta però farei meglio la prossima ancora ma l'importante è vedere le cose non ti devi incolpare su ciò che è accaduto ma migliorare sempre rimetterti in discussione allenarti a farti un'autoanalisi perché è molto formativo ritorniamo nella leggerezza quindi eravamo nel business eravamo nel business quindi niente riapriamo una nuova realtà sorridi quando parliamo di business perché ti piace tanto parliamo di strategie di marketing io vivo per questo penso di essere anche bravo a farlo penso di essere molto bravo dall'esterno io che non so nulla se non quello che mi stai raccontando ma quindi vivo ciò che potrebbe vivere qualcun altro secondo me non sei stato bravo sei stato incredibile grazie cioè nel senso partendo veramente da meno di zero ma dalla sola speranza che non è uno strumento però è uno stimolo sei stato a 30 anni molto concreto sì sì raccontacelo riapriamo ancora una nuova realtà con il magazine le cose vanno molto bene cambi il nome cambio il nome usiamo Basement Cafe per fare il rebranding da sto a esse quindi utilizziamo l'attenzione che abbiamo avuto con Basement per fare il rebranding quindi nel momento in cui comunichiamo Basement facciamo pure il rebranding di esse che cos'è esse magazine? cos'è il tuo editoriale sulla musica che apri usando Instagram già ai tempi di sto? qual è la sua matrice il suo DNA? allora l'obiettivo iniziale era quello di riuscire a dare a delle persone un punto solo dove poter trovare tutte le informazioni riguardo alla scena rap perché prima non c'era cioè io da fan del rap a volte andavo e cercavo di capire di trovare delle informazioni ma non le trovavo e con esse nasce questa cosa e tanti altri magazine sono nati cioè oggi su Instagram noi siamo stati molto all'avanguardia del tempo io quando lo dicevo mi prendevano in giro io dicevo il famoso ma dai sì sì io dicevo ragazzi dobbiamo fare i siti non hanno senso la gente non sta sui siti la gente sta su Instagram dobbiamo fare un magazine che esiste solo su Instagram e mi rispondevano tutti ma i ragazzi non leggono io dicevo dei ragazzi che non leggono non mi frega niente perché i ragazzi che leggono leggeranno e dobbiamo fare dei contenuti video di un'ora non di dieci minuti al tempo andava molto la roba dello short era il tempo di vines eh ma i ragazzi hanno la sogna di attenzione bassa dei ragazzi con la sogna di attenzione bassa non mi interessa niente mi interessano quelli con la sogna di attenzione perché esistono come cominci? quali sono i primi contenuti? la prima intervista che facciamo è Tedua ah parti subito con l'intervista partiamo subito con l'intervista e poi apriamo i G Tedua gli scrive un messaggio lui gli sarò sempre grato decide di fare questa intervista l'intervista esplode ne parlano tutti tutti contenti da lì iniziamo a dare una cadenza e puoi avere credibilità anche per la scena andare a prendere altri grandi nomi perché so che hai fatto fibra proprio più o meno agli inizi fibra ha capito cos'era S e Stop prima che lo capissi io perché quel sì che ci ha detto al tempo per me aveva già capito cosa saremmo diventati proviamo timidissimi vorremmo fare fibra e lui ci dice di sì e quindi da lì le cose vanno molto bene abbiamo Basement abbiamo S abbiamo la nostra società di Management rimaniamo su S ma solo per spiegare come si diventa un editore digitale perché di questo stiamo parlando un tempo lo si faceva su carta o in radio in tv cioè tu lo fai sul digital come io faccio con The Faust per parlare a Gen Z di cose diverse tu lo fai sulla musica qual è l'ecosistema finanziario? cioè nel senso qual è il modello di business? allora l'ecosistema finanziario di S oggi vive lavorando con i brand quindi riusciamo a sfruttare TikTok la cosa che non sopporto con il brand è vendere il prodotto a me non piace vendere il prodotto e si vede anche Basement non è vendita di prodotti anzi Basement mi è piaciuto perché si è esplicitato il brand senza far finta che non ci fosse anzi legittimandolo nel migliore dei modi c'era una tua animazione mentre bevevi il caffè c'era una parte customizzata brandizzata e poi si entrava nel contenuto però non nasce per vendere caffè assolutamente no di conseguenza è come Red Bull non ti parla della lattina ti fa vivere un mondo adrenalinico su Facebook Ceres non ti parla di birra ti parla di un mondo e di conseguenza è sinonimo di good vibes dopodiché se tu vuoi fare una scelta in quel mondo non sceglierai un altro brand sceglierei quello perché è stato il tuo passaporto della felicità o di momenti belli leggeri formativi quindi è un modo figo di comunicare utilizzare i brand per raccontare delle storie per raccontare il rap italiano perché per me questa cosa è importante continuare a raccontare il genere che amo quindi noi oggi lavoriamo molto con i brand quindi è diciamo è il core business è il nostro core business mi fai un esempio di un'operazione che è un brand perché Basement è un format a sé è un progetto editoriale a sé ma nel mondo di esse 64 Bars di Red Bull al tempo ci chiamarono i ragazzi di Red Bull per dirci che c'era questo format in Olanda e all'estero che si chiamava 64 Bars che avrebbe voluto rifarlo in Italia e io ho un'intuizione dico ma prendiamo un produttore e un artista al tempo era comunque così di due mondi diversi e facciamoli mettere insieme e vediamo cosa ne esce fuori potrebbe venire una figata e funzionò al tempo uscimmo con Franco Intale che è Tama adesso non mi ricordo tutti iniziamo a uscire con delle cose che all'inizio l'idea era quella oggi è semplicemente scrivere le 64 Bars però un esempio di branding è 64 Bars quindi sono dei progetti editoriali molto strutturati cioè non è il branded content one shot dove prendo il brand prendo l'artista e faccio un solo contenuto cioè un percorso di pensiero abbastanza acuto e lungo quello che cerchiamo di fare è sempre dare dei contenuti di qualità cioè questo è quello che mi sono sempre posto cercare di dare almeno dei contenuti di qualità adesso la mia intuizione allora il futuro ti dico qual è la mia visione io voglio che esso diventi una casa di produzione cioè della serie vuoi che sia sinonimo della scena web vuol dire qualcuno vuole fare un film su una piattaforma lo fate voi qualsiasi cosa ci sia in quell'ambiente oggi tutti sono caduti nella trappola di Instagram Instagram non è la nostra proprietà Instagram non è la mia piattaforma è di Zuckerberg e Instagram non mi paga per postare tutto quello che posto e tra 30 anni non mi rimarrà niente di tutto il lavoro che ho fatto noi fino ad un anno fa spendevamo ogni giorno 8 ore del nostro giorno a postare delle cose su Instagram ok che c'è il brand ma poi cosa ti rimane? niente cerchiamo di capire dove spostare le nostre energie la produzione ci siamo resi conto che in Italia nessuno cioè poche persone fanno produzioni sul genere e quindi come collettivo abbiamo iniziato a pensare a fare produzioni lavorare su documentari cioè quindi per mostrare il mercato quello che sei in grado di fare hai cominciato a farlo per te stesso per farlo per me stesso e la mia visione ambizione poi ne riparleremo tra due o tre anni io voglio riportare la gente al cinema attraverso esse perché le case di produzione non hanno una fan base oggi le case di produzione quando fanno un film sono in mano gli uffici stampa eccetera eccetera io osservo molto A24 che ha fatto un lavoro incredibile A24 sono quelli di Moonlight ultimamente hanno fatto un film al cinema che ha fatto 100 milioni di incasso come indipendenti loro lavorano bene per una credibilità e perché hanno una forte fan base io voglio fare lo stesso io adesso ci siamo creati una fan base grazie Instagram grazie Mark ora noi sfruttiamo questa fan base per portare la gente al cinema per portare la gente a vedere contenuti che sono di nostra proprietà quindi tra due o tre anni il mio obiettivo è far sì che ogni anno escano due tre film due film un documentario di S al cinema sulle piattaforme dove noi portiamo il pubblico a vederli in una tua intervista penso con Montemagno di tre anni fa circa hai detto che uno dei tuoi sogni sarebbe stato quello di fare un film e ne hai fatto più di uno e dopo ci racconti quello che uscirà in concomitanza con l'intervista ma di portare anche S Magazine su carta sei ancora di quell'idea? no non mi interessa più l'hai riuscita in discussione sei reso conto che non era più attuabile in questa contemporaneità mi interessa di più portare essa in televisione la gente dice la gente non guarda più la tele ma che cosa c'è da guardare in tele? questa è la domanda i ragazzi non votano ma chi dovrebbero votare? io a volte guardo la televisione mi interessa di più la pubblicità cioè nel senso sono poche le cose guardo crozza guardo propaganda guardo carta però poche cose ma sono poche le cose sono veramente poche sul voto voglio dire una cosa prendo lo spunto perché per me è importante dare questo messaggio non l'ho mai detto durante un podcast lo dico a tu per tu tutti i giorni è difficile oggi esprimere un'opinione verso qualcuno però penso che sia molto importante comunque esprimerla assolutamente io ho avuto una discussione con mia moglie poco fa siamo andati a votare e dove lei tendenzialmente mi ha esternato un pensiero e quindi per non essere falsa dice preferisco non esprimere il voto perché in questo momento non c'è realmente prima si votavano i partiti poi dopo le persone oggi voti quasi più gli argomenti delle persone poi ci sono queste grandi coalizioni e io ho detto è profondamente sbagliato poi decidi tu però un voto lo devi esprimere devi cercare di guardarti il programma elettorale di ogni singola persona e ci deve essere qualcuno che deve assomigliare o deve avvicinarsi il più possibile a quello che è l'ideale del paese che tu vorresti perché se non lo fai dai sempre la possibilità agli altri di farti subire quando ho creato The Fouse il primo punto su cui mi sono interrogato è la politica un giovane non si presenta le urne perché non sa un cavolo e se lo fa lo va a fare per simpatia perché non sa un cavolo e questo è tremendo vuol dire che noi non ci possiamo lamentare tutti i giorni del paese di chi ci governa e di quello che succederà se noi non esprimiamo un'opinione non siamo interessati ad approfondire ma tre ore è pieno di podcast è pieno di contenuti tre ore guarda una settimana prima delle elezioni vai a ascoltare come dire una scansione su ogni candidato e tu vai a esprimere una preferenza per me è molto importante mi batto per questo quindi non per votare uno piuttosto che un altro ma per esprimere una tua opinione consapevole quindi avendo fatto un minimo di ricerca scusa no no in questo mi trovi totalmente d'accordo il mio era un esempio forse sbagliato sì sì no no il tuo era un esempio giusto mi hai dato un assist e l'ho voluto cogliere per dare questo messaggio quindi no il futuro prossimo è provare a portare S in televisione provarci e vedere che cosa succede però mi piacerebbe riportare la gente al cinema e produrre contenuti che sono di mia proprietà di nostra proprietà finiamo con il cinema poi andiamo sul versante management tu continui in quel mondo e adesso apriamo il capitolo però finiamo con il film che sta uscendo di che parla? perché io ho visto il trailer tu non ci sei dentro al film tu sei dietro tu sei lo sceneggiatore l'hai scritto? io l'ho scritto e girato vuol dire regia? sì sì chi te l'ha insegnato a fare regia perché comunque è un mestiere no allora io quando ho fatto Zero ho conosciuto questa persona fantastica che si chiama Ivan Silvestrini che è il regista di Mare Fuori e lui mi ha sempre detto dovresti girare e allora io gli ho chiesto mi potresti insegnare e quindi ci siamo presi delle giornate in cui lui mi insegnava io non ho girato questo film perché voglio fare regista alla grande ma però volevi che si evincesse perfettamente ciò che volevi esprimere anche nella scrittura come fa Sorrentino sì io non voglio più che mi succeda che io ho un'idea e messa a terra diventa qualcos'altro ho detto io voglio avere il potere assoluto voglio sbagliare io voglio andare a schiantarmi io io non voglio parlare di progetti dove c'è il mio nome che non mi piacciono non voglio mettere la faccia su cose che non mi piacciono non voglio che nessuno possa dirmi io poi ascolto tutti però l'ultima parola voglio averla io qui c'è il mio nome a differenza dei progetti che mi sono usciti in passato no? il progetto prima ha avuto questo andazzo vale di zero? sì a un certo punto ho pensato sicuramente sanno farlo meglio di me e invece no non devi farlo non devi devi combattere fino alla fine per i tuoi progetti perché poi alla fine c'è il tuo nome perché poi alla fine c'è la tua faccia e perché poi alla fine ci rimetti tu colgo questa cosa che hai detto perché in un'intervista hai detto gli hater scrivono delle profonde verità lo dicono in modo sbagliato ci aggiungo io un po' la mia favella però tendenzialmente il concetto era ti ferisce perché toccano delle cose assolutamente che un fan non ti dice e quindi quelle cose ti fanno male fammi un esempio ti dico io ho avuto una vita molto fortunata tutte le cose che ho fatto fino a prima di zero sono bene o male andate sempre bene non ero abituato è un po' come Rocky 3 no? ha paura Rocky e c'è Poli che gli dice si vede che hai paura tu hai paura di perdere il titolo e perde poi no? perde è un campione che perde non sa più come perché non gli è mai successo no? non dico che non mi è mai successo però da quando ho pubblicato il libro in poi tutte le cose che ho fatto hanno avuto o successo sono andate bene artisti sconosciuti che uno diceva sì vai ma quello lì e poi esplodevano e il magazine e questo poi basement e questo e poi questo no? allora mi sono detto adesso faccio sta serie e bam no? e invece bam invece il bam è il boomerang nelle palle che ti sei preso però ti ho insegnato tanto a me dopo game therapy la mia vita è cambiata in una maniera incredibile ma più consapevole più maturo ho fatto le cose più importanti in assoluto io spero che mi accada questo adesso beh sta già succedendo non ti avrebbero dato un'altra possibilità poi ti dico Zero mi ha dato tantissime cose mi ha permesso di iniziare un percorso lavorativo con Marta che è la mia manager a me capita che a volte la guardo anche quando vado a trovarla in ufficio dentro il mio cervello penso ma perché lei lavora a me mi chiedo questa cosa perché non mi è mai successo di trovare delle persone che lavorano al mio progetto l'ho sempre fatto da solo quindi Zero mi ha dato questo mi ha dato Amazon perché adesso la tua serie è un film o una serie? il mio film esce il 10 novembre su Prime Video su Prime Video e io ho firmato un over all deal con Amazon di due anni e ho trovato delle persone con cui lavoro non per cui lavoro è stimolante molto stimolante due anni perché succederanno altre cose sì sì stiamo lavorando delle altre cose sono subordinate i risultati o si fanno e basta? si fanno e basta sono da contratto ci metti il tuo 100 però ti permette di affrontare tutto con una serie ci sono dei format delle cose un po' pazze che sto pensando che tirerò fuori non cose per forza dirette da te o sì? non cose per forza dirette da me ma anche io partecipo ok quindi Amazon un player gigante quindi è bellissimo e quindi il film racconta la storia di due fratelli che hanno lo stesso sogno e amano la stessa donna e di come le famiglie cambiano nel tempo cioè spesso si parla di famiglia tradizionale in Italia dove sono cresciuto io non ho mai visto una famiglia tradizionale i miei amici avevano o il padre che magari era scappato oppure non c'era la madre oppure non avevano entrambi i genitori cioè la famiglia cambiava e il film racconta di una famiglia black che cambia nel tempo poi sai dire famiglia black no perché poi guardi il film e ti rendi conto che ti ci puoi rivedere anche tu se hai avuto gli stessi problemi nel film c'è il rap perché il rap ha salvato la mia vita e perché continuerò a raccontarlo e per me è un buon film ti dico la verità penso che ci stavamo parlando prima che esca sì sei soddisfatto del risultato? tantissimo cioè a me nella mia vita mi hanno sempre criticato sempre ho fatto il primo romanzo non sai scrivere ricordo che uscì una recensione sul Repubblica di un giornalista non mi ricordo il nome mi diede zero come voto mi hanno sempre criticato non sai scrivere scrivere i bambini gli artisti che fai fanno schifo il magazine è una merda sempre però quando sento che qualcosa che ho fatto mi piace quello è il risultato e questo film mi piace sono contento sono stato a Los Angeles due mesi quest'estate perché io voglio fare una roba coprodotta in America ci sto lavorando sei andato per fare piare per respirare quell'ambiente o per girare no no PR solo PR e sai tutte le volte che parlavo con le persone dicevo sto per fare un film che mi piace prima di questo film non potevo farlo perché avevo un progetto fuori di cui tutti mi parlavano che non mi piaceva e io dovevo difenderlo perché comunque devi difenderlo perché comunque è il tuo bambino è il mio bambino perché comunque mi hai dato delle cose comunque devi difenderlo però oggi non vedo l'ora che esca ma non voglio cioè io non voglio spaccare perché posso andare di nuovo negli Stati Uniti posso andare in giro del mondo e dire ho questa cosa fuori andatevela a vedere perché a me piace quindi sono molto soddisfatto di quello che ho fatto quando ho fatto Game Therapy abbiamo fatto la prima proiezione al Festival del Cinema di Roma 2015 e quel giorno io avevo fatto una campagna di comunicazione molto aggressiva avevo preso 44 creator che avevano fatto Life Therapy Day dove nessuno andava sui social e poi documentavano la loro giornata filmata da qualcun altro chi andava a trovare i nonni chi andava a trovare il paese degli amici di scuola e alla fine c'era il trailer quindi abbiamo creato molto hype e arriviamo alla festa del cinema di Roma dove io invito i 44 con dei fan e vediamo il film per me non era la prima volta tu lo sai che in quel momento volevo scomparire dalla sala perché ho detto quando si accenderanno le luci e mi alzerò e dovrò sorridere quasi contento di quello che sta accadendo mi vergognavo così tanto di quel prodotto che per me è stato un momento terribile qual è il momento quando fai un film come fai adesso in cui hai quel bilancio del pubblico c'è una prima cioè tu l'hai vissuta su zero questo momento dove dici faccio la prima con un sacco di addetti ai lavori giornalisti e a un certo punto mi guarderanno tutti e vedrò nei loro volti se è piaciuto se non è piaciuto però dovrò affrontare positivamente la conversazione noi abbiamo allora ti dico io questo film l'ho scritto mentre stavamo lavorando a zero perché ho pensato in questo momento tutti vogliono lavorare con me per un progetto che non è ancora uscito scrivo un film sfrutto questo momento per cercare di vendere subito qualcosa che mi piace che mi rappresenti quindi io mentre stavo lavorando a progetto stavo già scrivendo questo film al punto che abbiamo fatto molto in fretta l'hanno già scritto ho portato in Amazon l'hanno approvato ci hanno fatto delle note abbiamo sistemato come sei abituato hai fatto il secondo romanzo mentre stavi facendo il primo in cui la storia della tua vita no no però ho cercato di sfruttare questa cosa con l'uscita della serie non era possibile perché c'era il covid era ancora una fase in cui si aveva un po' paura quindi non si è fatto niente noi per questo film avremo una prima a Roma al Cinematro Easy e boh vediamo però sei confident sono super confident nel senso bello sorridente guarda il feed migliore per me sono le persone che lavorano con me perché sono sincere sono crudeli e te hanno già dato la loro opinione sì ma l'ho scritto anche l'altra sera mi fa Anto a me il film mi sta piacendo tantissimo quello mi fa stare abbastanza bene torniamo un attimo che è l'ultimo argomento sulla parte management quindi non puoi lavorare con Capoplaza perché rimani in quel collettivo ma comunque continui a voler fare quel lavoro e con chi ricominci? allora noi abbiamo avuto un momento in cui abbiamo lavorato parli ancora il plurale perché è lo stesso collettivo siamo sempre noi il primo progetto è Knight questo artista di Roma molto bravo facciamo il primo disco con lui e va molto bene entriamo molto bene in Fimi e parallelamente firmo questo ragazzo che mi fa impazzire si chiama Shiva e iniziamo a parlare tra di noi e a cercare di trovare una quadra quindi iniziamo a lavorare effettivamente quadra artistica perché tu entri nel tessuto della musica dalla scrittura a tutto sì io entro in tutto nel senso che io faccio questa cosa che ti dico per me a livello di direzione artistica dovresti rappare di più dovresti parlare un po' di più di Milano dovresti fare questo dovresti fare quest'altro cosa vuol dire per tradurlo per tutti rappare di più? sai oggi io penso che da una cosa non si scappa ce la fa solo chi sa rappare se non sai rappare ne fai uno ne fai due ma non ne fai tre quando dici rappare vuol dire stile attitude scrittura saper scrivere saper stare sul tempo cioè saper riuscire a dire un argomento all'interno del tempo e quello ce l'hai o non ce l'hai puoi affinarlo però o ce l'hai inside o non ce l'hai e quindi io dico sempre puoi farne uno puoi farne due ma non sarai longevo ti sgamano e quindi no troviamo Andre che è Shiva e iniziamo a lavorare insieme e le cose iniziano ad andare bene vanno molto bene e poi troviamo quest'altro ragazzo che si chiama Pachi e iniziamo a lavorare a questo progetto qua quindi abbiamo Shiva Pachi cioè due bombe due bombe e iniziamo a lavorare a questi due progetti che ci portano degli ottimi risultati nel breve e iniziamo a lavorare insieme abbiamo delle bellissime intuizioni uno dei miei più grandi punti di riferimento è Jay-Z e Jay-Z fa questa cosa molto bella che lavora sempre con brand meno invisibilità perché la visibilità la porta a lui perché le idee le porta a lui questa è una cosa che in Italia non capiscono molti molti vogliono lavorare con il brand grande ma non capiscono che il brand grande non ha bisogno di te per vendere è il brand piccolo che ha bisogno di te è il brand piccolo che è disposto ad ascoltarti e se vedi tutte le strategie di marketing di Jay-Z sono sempre fatti con brand piccoli Jay-Z mette puma Jay-Z lavora con X cioè lui fa sempre cose con un brand un po' più piccoli allora iniziamo con i nostri artisti a lavorare a chiudere dei deal con dei piccoli brand e le cose vanno molto bene perché hai detto puma piccolo brand per chi ci ascolta magari è un brand gigantesco è gigantesco però sai in relazione a Adidas Nike negli Stati Uniti e voi chi scegliete? puma si può dire puma in Italia iniziamo con questa collaborazione bellissima con persone disposte ad ascoltarci disposte a far lavorare facciamo un bellissimo anno con Pachi eccetera eccetera poi arriva il covid e un giorno sono a casa e sento questo ragazzo su YouTube e inizio a scrivere nel gruppo nelle chat dei miei amici ragazzi dobbiamo filmare assolutamente questo ragazzo perché questo se lo lavoriamo bene abbiamo svoltato e si chiama Rondo continuo a mandare questo pezzo si chiama Free Sami lo mando in tutte le chat totalmente sconosciuto in quel momento totalmente sconosciuto dico ragazzi per favore datemi una retta non mi ascolta questa è la storia della mia vita con tutti gli artisti ho sempre detto ragazzi dobbiamo filmarlo per forza non mi ascoltavano poi cosa ho sempre fatto ho sempre chiamato io al telefono e mi sono sempre messo io gli ho sempre beccati io e poi mi hanno dato retta quindi dico trovo questo ragazzo dico ragazzi dobbiamo filmarlo assolutamente adesso adesso iniziamo a lavorarci facciamo il primo singolo che si chiama Leggenda che va molto bene al tempo io ero un fan della Drill nel 2020 la Drill non era ancora esplosa come poi esplosa ma c'erano artisti come Dig Dat che stavano facendo delle cose che iniziavano non può piacere ai ragazzi in studio dicevo ragazzi sentite questo qua Dig Dat e si prendevano bene diciamo cavolo questa roba potrebbe essere figa e allora Andrew il mio socio ha l'intuizione di dire a rondo prova ad andare sulla Drill e il tipo è siccome un fenomeno fa questo singolo che si chiama Louboutin che gli esplode in mano poi usciamo con l'EP e è grande successo anche per lui sono tutte esperienze fantastiche io ho fatto l'ultimo anno e mezzo 2021 e 2022 mi sono detto non voglio più lavorare su un progetto musicale per il discorso di pace mentale perché succede sempre così con gli artisti che ci sta arrivano tanti soldi subentrano la famiglia subentrano gli amici subentrano i problemi il discorso del non è più noi ma è io e quando magari c'è qualcosa che non va è colpa tua e io non sono bravo a rimanere nei posti dove non mi sento bene me ne sono sempre dato via io l'ho sempre detto io ragazzi sapete che c'è faccio un passo indietro perché per me i contratti non hanno senso se non c'è volontà di lavorare che senso ha? poi questa cosa del rincorrere i soldi io penso che se uno vale in un modo o in un altro i soldi li farà e ti dico io quando ero piccolo non avevo la casa oggi ho due case ho una casa in Angola la mia più grande vittoria è che la mia famiglia in Angola stia bene quella è la mia grande vittoria tuo papà lo aiuti? sempre oh gli ho comprato una casa della Ravenna cioè questa è la mia più grande vittoria il tuo più grande polmone economico è stato alla parte di management quello che ti ha prodotto più soldi o no? il mio più grande polmone economico sono stati i libri il management mi ha fruttato nella prima parte no perché nella vita ottieni io lo dico sempre è un consiglio che dico a tutti ottieni quello che tratti non quello che meriti cioè capitolo subito non è che tu fai tanto per una persona e allora poi lui ti riconoscerà quella cosa non è così tu ottieni sempre solo quello che tratti io oggi se avessi trattato bene le cose oggi sarei multimilionario proprio tanto quindi ho fatto due anni in cui non ho lavorato la musica adesso non lavori più con nessun artista musicale? no c'è qualcuno che mi interessa ma non ti dico chi perché voglio aspettare sono molto scaramantico certo 2023 tre progetti grossi dal niente li faccio anche se sai che soffrirai a un certo punto perché parleranno in prima persona perché succederà se avranno successo succederà se avranno successo ma io lo faccio perché mi diverte come ti dicevo prima Luca io sono consapevole dei miei mezzi io so che c'è un prima e un dopo se vuoi andare da solo vai io credo che la storia non io testimoni che gli artisti che hanno lavorato con me quando erano con me erano di un livello dopo ti avrei fatto la domanda però magari essendo tutto troppo ancora giovane ci vuole del tempo a volte per capire queste cose io dico nell'immediato infatti io ti avrei chiesto quanti poi sono tornati però magari tutti ok questo te lo dico proprio tutti ok questo ti fa onorevole dire che insomma non eri simpatico eri bravo nel tuo lavoro tutti ci hanno chiesto poi di tornare a lavorare a proposito di bravo nel tuo lavoro quando ascolti un pezzo per la prima volta cioè quindi fai un progetto proprio il primo pezzo con l'artista quindi non l'ennesimo cos'è che ti sorprende che ti fa dare l'effetto wow cioè quando fai il primo ascolto quali sono gli ingredienti che ti fanno venire la pelle d'oca prima di tutto io faccio sempre questa cosa che becco gli artisti da solo e gli faccio delle domande sulla vita e su quello che vorrebbero ottenere questo mi fa capire molto con chi ho a che fare le cose che mi stupiscono di un artista è la capacità per me della scrittura la consapevolezza di chi sono anche quando non hanno capo plazza non è mai cambiato cioè plazza è il plazza di quando io l'ho visto per la prima volta che aveva preso il treno da Salerno per conoscerci hai detto una cosa in un'intervista che sottoscrivo in pieno hai preso anche da supe in quell'esempio se non hai niente da dire non dire niente sui social e quando è qualcosa di bello da comunicare pubblico di qualcosa di figo plazza è se non ho niente da dire non dico niente e non è mai cambiato quindi la cosa che mi stupisce è molto difficile poi gli artisti sono sempre diversi la cosa che mi stupì di Gali era questa lui faceva una cosa che non esisteva lui faceva questo pezzo che si chiamava Cazzomene io non lo conoscevo al tempo quando lo senti pensai cos'è questa roba faceva questo pezzo che si chiama sempre me queste sonorità questo modo di giocare lui faceva questa cosa che in Italia per me non lo faceva nessuno poi io parlo sempre per esperienza personale questa cosa di era un rap molto colorato cartoni animati citazioni parole in inglese Dragon Ball la mamma faceva tutte queste cose molto italiane ma sulla trap no? questa cosa l'hanno fatta poi tutti ma al tempo fare la trap era scuro e lui parlava di mamma parlava di cose parlava di Dragon Ball parlava di era futuristica questa roba quindi non lo so non so poi dipende sempre dall'artista però mi diverte molto parlando di futuro tu in un'intervista di tre anni fa con Montemagno avevi nominato due artisti quando lui ti ha detto secondo te chi spaccherà e tu avevi nominato da su primo oggi Rebrand da sup e Lazza che sono tra l'altro i due artisti l'anno scorso il più streamato in Italia su Spotify da sup e quest'anno Lazza quindi ci hai preso in pieno fammi una previsione sul futuro su degli artisti che in questo momento sono ancora in una scena un po' emergente ma che hanno come dire un DNA vincente oggi il rapper più forte di Milano si chiama Nerissima Serpe per me è il rapper più forte di Milano non capisco come sia possibile che la scena non se ne sia ancora accorta io fossi il rapper lo coinvolgerei in tutti i miei album il tipo scrive benissimo sembra un membro della Dogo Gang che si è scongelato oggi che sta iniziando a rappare cioè racconta Milano in una maniera incredibile e per me lui è il prossimo non so se tra un anno tra due o tra tre per me tra cinque o sei anni quando si parlerà di rap di Milano per me si dovrà per forza parlare di Nerissima Serpe scrive benissimo ha dei concetti super belli è diverso il problema del rap italiano è che il rap italiano si accorge delle cose solo quando funzionano in America e in Francia gli artisti ti coinvolgono perché spacchi non perché funzioni in Italia si accorgono di te perché funzioni ti coinvolgono perché funzioni non perché spacchi quindi spero che qualcuno si accorga di Nerissima Serpe e che gli dia la possibilità di dimostrare che lui è il futuro del rap a Milano prima dell'ultima domanda di chiusura ti voglio dire questa cosa perché quando io ho visto la tua intervista con Fedez guardo l'intervista penso esattamente emotivamente questa cosa lui strabravo non c'è da nessuna provocazione e tu non sei riuscito a trattenere quello che pensavi che sia motivato o meno però eri troppo condizionato da dei pensieri che hai nei suoi confronti che avranno ovviamente delle radici boh non lo so però dico perché l'hai condotta così? prima di tutto ti dico quell'intervista non avrei dovuto farla perché io sono una persona che quando c'è qualcosa che non gli piace qualcosa che non lo convince si vede bravissimo si vede sempre non riesco a fare finta e quindi non è neanche professionale e non ti porta ad avere un contenuto di qualità la cosa che la gente non sa è che noi abbiamo avuto una forte accesa discussione prima dell'intervista subito prima sì sì subito prima perché non mi è mai successo nella vita che un artista mi chiedesse di modificare delle domande o mi chiedesse volontariamente di parlare di persone che non c'erano e ti hai indisposto questa cosa? no c'è stata una discussione abbastanza animata al punto che abbiamo avuto due momenti una prima io poi sono uscito dal camerino e una seconda dove poi sono rientrato e abbiamo provato a riparlare ancora ma non è stato possibile tutto questo prima dell'intervista tutto questo prima dell'intervista appunto che le persone che erano in sala hanno atteso tanto noi solitamente quando vengono si siedono e dopo 15 minuti siamo sul palco per me un'ora l'hanno attesa l'intervista è iniziata molto tardi l'altra cosa lui è venuto con un suo videomaker durante l'intervista a filmare l'intervista questa cosa ci ha abbastanza indispettito io ero molto arrabbiato per la conversazione che abbiamo avuto e per come è andata non ero sereno mentalmente non ero sereno mentalmente la sua capacità è stata che quando le telecamere sono accese lui era tranquillissimo è stato molto bravo e io invece ero ancora coinvolto emotivamente e in più sicuramente la mia non simpatia nei suoi confronti si è sommata a questo stato emotivo ha portato a far sì che questa cosa accadesse che insegnamento hai tratto da quella cosa? quello che ti dicevo prima primo che devo cercare di ponderare molto bene le mie scelte e capire fino in fondo che cosa mi porta cioè io intervisto lui ma che cosa ne tra cioè qual è il vantaggio che ne trae il nostro magazine noi abbiamo sempre cercato negli anni di fare delle cose che raccontassero delle storie di approfondimento che potessero dare qualcosa dalle persone che ci seguivano io già prima di fare l'intervista comunque non ero molto volenteroso nel farla e l'insegnamento che ne ho tratto è che devo fare solo le cose che mi piacciono cercare di fare almeno io come Antonio quando poi decido di intervistare fare solo le cose che mi piacciono perché poi noi non siamo un magazine pubblico e quindi decidiamo chi vogliamo intervistare quindi devo cercare di fare le cose che mi piacciono e poi che sai che il mio parere è quello che penso non è importante cioè forse a volte per ego ho sbagliato in passato anche nella mia vita convinto che quello che penso io quello che mi piace o non mi piace le persone questa cosa la debbano sapere no? o che quello che penso io riguardo ad una cosa si debba sapere prima di tutto questa cosa non fa bene al business se tu sei un uomo di business e secondo non gliene frega un cazzo nessuno quello che hai detto è il tuo pensiero quindi è quello che vale più di tutti perché la domanda l'ho fatta a te e tu hai vissuto il bello e il brutto di tutta quella vicenda se tu vuoi io quello che ti consiglio è imparare da quello che lui ha fatto dopo si è seduto come se non fosse successo niente e ha condotto in modo magistrale il suo momento e tu questo lo devi fare sempre assolutamente io penso che tu uno come lui lo debba avere è giusto che ci parli perché sei una testata di riferimento e lui è un artista super importante che va al di fuori da quello che è la musica c'è tutto quello che c'è intorno a lui ha creato un brand intorno al suo nome è stato bravo è un provocatore ma non vuol dire cioè è una strategia di marketing la provocazione e quindi io lo ritengo molto stratega e intelligente non è mio fratello io non ho nessuna relazione con lui te lo dico in modo cinico credo che lui lì ti abbia insegnato una cosa che tu ti devi portare a casa per tutte le prossime volte perché sarai una persona impassibile quando stai lavorando quando stai reccando non c'è nulla che ti possa spostare perché c'è solo una cosa importante nella vita l'obiettivo no no questa cosa che dici è sacrosanta e io penso che mi sia anche servita nel senso che nell'ultimo anno una cosa che ho imparato è che internet non è tutto quello che ho questo mi è servito tantissimo ho fatto un anno ho fatto un anno in giro per il mondo ho stato in Angola sto prendendo un'attività lì sto facendo cose sono stati negli Stati Uniti quindi anche staccare internet mi è servito tantissimo ti dico tornando indietro non ti dico che la rifarei penso che non la rifarei la rifaresti diversamente la rifarei diversamente però sono soddisfatto comunque di dove sono e di quello che ho fatto esatto la vita non è fatta di un episodio anzi quello è formativo ma se devi fare un bilancio sulla tua vita non devi essere contento dovresti sorridere appena ti svegli fin quando non vai a dormire perché sei bellissimo quando sorridi lo fai molto poco come me quindi è un consiglio che ti do chiudo con una domanda meno leggera anzi ti voglio chiedere se hai paura della morte ho paura che muoiano i miei nonni ho paura che muoiano i miei nonni perché non li ho vissuti abbastanza sono in Angola? sì non li ho vissuti abbastanza ho paura che muoiano i miei nonni ho paura che muoiano mia madre ho paura che muoiano le mie sorelle e a volte ci sono giorni in cui penso ma non si vive per sempre che senso ha? che senso ha tutto quello che fai? che senso ha tutti gli sbatti che ti porti tutte le cose a cui pensi le cose che per te sono importanti che senso hanno? mi spaventa la morte degli altri di più che muoiano le persone a cui voglio bene e che non possano realizzare i loro sogni che non possano essere serene questo mi spaventa mi spaventa ricevere una telefonata e sentirmi dire è venuto a mancare X o Y soprattutto mi spaventa molto la morte dei miei nonni tantissimo perché veramente io non li ho vissuti sai ti dico quest'ultima cosa una cosa che mi ha flashato dell'Angola io poi sono andato in Angola molto tardi perché io per tutta la vita ho avuto problemi di documenti a causa di errori dei miei genitori la cosa che mi ha flashato di più dell'Angola è vedere delle persone che mi somigliano per te è normale no? perché tu comunque ma non lo so magari hai parenti vicino non lo so per me no vedere il mio cugino una persona che mi somiglia questa roba mi ha flashato totalmente proprio che mi ha mandato proprio non lo so in maniera positiva positivissimo ho pensato ma a tal punto di non voler perdere la connessione con quelle radici assolutamente adesso da quando ho la possibilità di andare in Angola sono andato tre volte sono andato scorsa settimana ci voglio andare una volta al mese quante ore di volo? otto ore vado le nove mi sveglio la mattina sono in Angola quindi questo la paura delle persone che amo questa è la cosa che mi spaventa di più e non hai mai fatto questo pensiero su di te? io ho paura di non essere più rilevante perché la rilevanza è importante con la rilevanza sai e per te non esserlo più è sinonimo della morte bravissimo perché io voglio essere rilevante perché penso che quello che posso portare sono cose buone positive perché penso che quello che ho fatto è positivo perché come ti dicevo io voglio cambiare il mio paese ma non perché sono un benefattore perché io sono consapevole del fatto che nel paese dove vivo ci vivono anche le persone che amo sai quando tu le più grandi storie d'amore sono scritte per una persona le più grandi poesie del mondo sono scritte per una persona i libri della buonanotte sono scritti per un bambino no cioè tu lo fai per le persone che ti sono vicino quindi io sono consapevole del fatto che qui ci vivono le mie sorelle che la mia sorella esce da lavoro va a casa e incontrerà delle persone per strada no è mio padre è mia mamma non ci vive più però quando ci torna no è i miei nipoti quindi questa è la cosa che mi spaventa di più non essere più rilevante io voglio continuare ad essere rilevante continuare a fare storie la morte per me è questa non essere più rilevante grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te